Potrebbe essere anticipato il rientro in Italia di Chiara Tumbo Lato, la 55enne di Cittadella, rimasta coinvolta in un grave incidente stradale in Egitto, dove ha perso la vita al marito Davide Baggio, 56enne. La donna è ricoverata all'ospedale di El Gouna, in Egitto. Le sue condizioni consentirebbero il trasferimento con un volo aereo sanitario e che potrebbe dunque riportarla a casa nei prossimi giorni per sostenere un nuovo intervento chirurgico. Nella tragedia che ha sconvolto la famiglia Baggio e l'intera comunità cittadellese, finalmente una buona notizia. Chiara Tumbo Lato potrà rivedere i suoi figli e i familiari che nel fattempo dovrebbero raggiungere l'Egitto per effettuare tutte le pratiche burocratiche per il rientro in Italia della salma di Davide Baggio. Il dramma è avvenuto sabato scorso, la coppia, partita da Urgada, era a bordo di un'auto e stava andando a fare una gita a Luxor. Il pullman era pieno e quindi si sono rivolti ad un autista per il noleggio di un mezzo che poi è rimasto coinvolto in un tremendo incidente stradale.